In scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme, trofeo Maestrelli, il premio Tommaso Maestrelli intitolato all'allenatore della Lazio che portò appunto la Lazio allo scudetto del 1974. Premio come miglior allenatore italiano 2014-2015 a Roberto Donadoni, neotecnico del Bologna, che sta guidando con ritmi dal record. È un motivo di grande orgoglio, è un motivo di grande soddisfazione e quindi è un premio questo che devo sicuramente condividere con tante persone che mi hanno dato la possibilità oggi di essere qui e quindi anche se sul libro ci sarà il nome di Donadoni, però va condiviso veramente con tutti quanti loro. Come migliore allenatore italiano del settore giovanile, Simone Inzaghi con la sua Lazio. Sì, penso che negli ultimi stagioni abbiamo fatto molto bene sia a livello di risultati di titoli vinti ma soprattutto di aver portato diversi, che è quello che è l'obiettivo che conta di più, di aver portato diversi ragazzi a giocare in prima squadra, qualcun altro in Serie B o in Lega Pro, però insomma è stato il coronamento di tanti anni di un buonissimo lavoro. Riconoscimenti speciali sono stati consegnati tra gli altri a Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport 24, Fabio Splendore, penna del Corriere dello Sport Stadio, a Luca Banti, arbitro internazionale, Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, Gennaro Gattuso con il premio alla carriera da giocatore. Insieme a loro Riccardo Saponara, centrocampista, leader dell'Empoli, e Federico Bernardeschi, giovane attaccante della Fiorentina. Ospiti d'eccezione Giancarlo Antonioni e Fiona May. Un successo per la serata organizzata da Enzo Banti, impeccabile ogni anno nell'ideare e far riuscire questo evento.